ciao amici misi ciao a tutti e bentornati nel canale di oggi siamo di nuovo in compagnia dei nostri amici 44 capiti vogliamo aprire due miau blocks quale vuoi aprire per primo questo noi già ne abbiamo uno dove abbiamo trovato il jungle e speriamo di non trovare una coppia una coppia questi li potete trovare in edicola a 3 euro e 99 allora ecco qua se la troviamo la troviamo dobbiamo fare dai apri tu intanto io apro questo va sono sigillatissimi vediamo chi c'è abbiamo trovato più a tutti gli occhi glitterati agli occhi verdi tutti glitterati è fatta molto bene anche lei può muovere la testa ma non può muovere le zampine e la coda poi abbiamo anche il bucle dove ci sono tutti i personaggi noi quali abbiamo adesso abbiamo pilu e jungle e adesso speriamo di trovare chi tu non volevi astrighetti lei voleva astrighetti invece mamma vorrebbe beh baby pie e io volevo astrighetti speriamo di trovare astrighetti dai aspetta che oh oh ecco abbiamo trovato grimo e vabbè tanto non ce l'avevamo e anche lui muove la testa ha gli occhi glitterati azzurri lui può muovere anche la codina e anche le braccia non le può muovere e anche le gambe molto carino e niente questi sono i nostri due personaggi e anche qui abbiamo trovato il buclet e non ci dimentichiamo che tutti questi blocchi che troviamo si possono infilare come fossero costruzioni guarda 1,2,3 vedi diventano altissime guarda tadan con questo video è tutto vi salutiamo ci vediamo al prossimo video ciao ciao se il video vi è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale ciao ciao